Device Ormai si dice così perché dire dispositivo è troppo italiano Sono entrati con prepotenza nella nostra vita e grazie a essi ne curiamo ogni aspetto, ogni momento Ne siamo circondati A quanti anni avete avuto il vostro primo smartphone? Ma soprattutto, era uno smartphone? Oppure un telefono di quelli di vecchia generazione? Ossia quello che i più trendy oggi chiamano Dump Phone Un telefono standard, senza internet o app Uno di quelli che se toccavi lo schermo non succedeva nulla E per interagire o spostarsi bisognava usare i cari vecchi tasti analogici Se ti dico T9, a cosa pensi? A pensarci oggi sembra pre-istoria Essendo cresciuto nel periodo a cavallo dall'analogico al digitale Ho potuto vedere con i miei occhi questo passaggio rivoluzionario E poi vabbè, se parliamo dell'avvento dei social sapete che sono un pochino ferrato È semplice, tutti abbiamo un potere I social insomma ci hanno rivoluzionato la vita Ma ovviamente come ogni grande scoperta può essere usata sia per il bene che per il male Ogni grande innovazione porta con sé lenti processi di aggiustamento E richiede delle correzioni in corsa, spesso drastiche Proprio affinché il bene prevalga Oggi persone molto più qualificate di me si interrogano appunto sui rischi e le conseguenze A medio e lungo termine sul benessere digitale Sulla sicurezza, sulla privacy Ma anche temi più ampi come la democrazia o l'etica Come nel caso dell'intelligenza artificiale Servono regole? Servono dei limiti? Una cosa è certa, per rispondere bisogna sempre partire dal dialogo Perché l'obiettivo non è vietare o privare Ma migliorare le piattaforme a renderle più inclusive E rispondenti alle esigenze di tutti In particolare dei giovani Che se ci pensiamo un attimo è proprio per questo che nascono eventi Con lo scopo di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie E non di metterle in soffitta perché non siamo più in grado di usarle bene Per il Back to School 2023 Il Safer Internet Center italiano Generazioni Connesse Ha voluto mettere a confronto i giovani che usano le piattaforme digitali più popolari E le aziende che le creano A rappresentarli sono ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia E che compongono lo Youth Panel Da qualche mese si incontrano periodicamente per capire su quali aspetti oggi Internet dovrebbe migliorare E questa to-do list la presenteranno direttamente a realtà come Meta, TikTok e Google I social media Media, si dice media, è latino, dannazione Latino a parte Qualche tempo fa leggevo che sempre più giovani si stanno stancando dei social E stanno tornando a device più classici Quindi ho pensato di proporre uno scambio ai ragazzi dello Youth Panel presenti qui oggi I giovani studenti esperti che supportano generazioni connesse nelle iniziative per la sicurezza in rete Sceglieranno di tenere il loro smartphone oppure di tornare indietro e di sconnettersi Scopriamolo Scambieresti il tuo smartphone con questo? Non so perché qualche anno fa avrei detto di sì Qualche anno fa avresti detto di sì Adesso con questo No Prego, puoi anche provare La risposta no Sì, sì, sì L'hai mai avuto? No, ho avuto la versione successiva Molto successiva Ce l'avevo uguale Era piccolina solo per chiamare Ammazzo, direi... In realtà no No perché Non sono abituato a tutte le comodità del mio iPhone E questo qui probabilmente non ci pare niente Cioè lo userei come martello forse Anche perché so che è molto resistente Ma questo è resistentissimo E non lo scambiere mai perché sul mio telefono ho tutto Idealmente sì Però dovrei mantenere anche il mio telefono Non è proprio molto funzionale No, ma non tanto nemmeno per i social Design Il design Però questo sopravvive alle catture Sono troppo giovane per averlo avuto Ricordi, amicizie, tutto Controlli mai il tempo di utilizzo dei tuoi social? Cosa fai quando ti rendi conto di stare troppo su un social network? Mi capita spesso di controllare i tempi di utilizzo E quando li vedo rimango sempre sbalordito Perché veramente ci passo tanto, tanto tempo purtroppo Quello che faccio è cercare di non ricadere nello stesso errore Anche se a volte li capita Cosa fai quando ti rendi conto di usarli troppo? Come mi comporto? Mi incazzo Mi incazzo proprio con me stesso Non so Come è possibile che abbia perso tutto questo tempo a scrollare? Non me ne sono nemmeno reso conto Migliorerei forse l'aspetto del benessere Quindi quello che fanno adesso i social media è Media, si dice media È latino, dannazione Avrei continuato tutto il giorno Ma dopo un po' ho voluto sviscerare le idee che hanno sparato i ragazzi alle big tech Per migliorare il web Perché sapete, se si tratta di migliorare il web Non mi ferma nessuno Neanche Bruno Vespa Dico Gargiulo, 27 anni, è youtuber e blogger Cosa miglioreresti dei social media? In questi giorni ne abbiamo parlato di una serie di problemi che, non so, può avere Instagram con tutti i discorsi su account fake Il social dovrebbe pensare più alla persona che ha come utente Nel senso che siamo nell'epoca delle flash news Problemi con una serie di contenuti che vengono mostrati che non dovrebbero essere pubblicati Leggiamo poco, ci interessiamo poco perché appunto siamo abituati alla stories di 15 secondi Non mi piace come le persone postano solo il meglio e quindi sembra che le loro vite siano perfette Dopo ho conosciuto dei rappresentanti istituzionali delle piattaforme social di TikTok, Meta e Google E lì mi sono chiesto nuovamente Scambieresti il tuo smartphone con questo? Sì Diciamo, forse ne avrei due, posso averne due? Uno per lavoro e per il tempo libero forse lo prendo Mi trovo veramente bene con il mio smartphone Ho dei gravi problemi di orientamento e quindi senza le mappe, non per forza mappa, senza le mappe io non sarei mai riuscito ad arrivare qua Neanche io probabilmente ma andiamo avanti Qual è il suggerimento più importante che ti porti a casa dopo il confronto con i ragazzi dello Youth Panel? È sicuramente quello di parlare di più con i ragazzi stessi Utilizzare un linguaggio che sia più semplice perché secondo me gli esperti come i ragazzi di oggi, cioè non dobbiamo insegnarli niente, sono forse tutti gli altri Alcune indicazioni, alcuni suggerimenti che mi hanno fatto aprire gli occhi sul fatto che, come dire, magari non comunichiamo tanto bene per esempio il nostro modello di business In che modo utilizziamo i dati, in che modo i creator possono in qualche modo costruire un'attività remunerativa Convertiti per i creator in un reddito Giornate del genere ci ricordano che forse dovremmo cominciare a renderci conto di quanto i social impattino realmente sulla nostra vita Spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto e per questo dobbiamo sviluppare più consapevolezza sui rischi concreti dell'iperesposizione incontrollata al digitale Molto passa dei nostri comportamenti e quando questo non è possibile dobbiamo aprirci al dialogo per trovare soluzioni concrete e percorribili Dietro ai nostri device ci sono persone che, proprio come noi, hanno sogni, ambizioni e sentimenti Che sono disposti ad ascoltare e comprendere, proprio come è successo oggi qui grazie a Generazioni Connesse Per rendere migliore il mondo digitale dobbiamo lavorare insieme nel mondo analogico Perché essere connessi non vuol dire avere il 5G, un account su TikTok, Instagram, YouTube Ma significa parlarsi, ascoltarsi e capirsi Alla fine i social sono un po' una proiezione di ciò che siamo Ma quello che fai nel mondo virtuale ha ripercussioni nel mondo reale e viceversa E oggi qui, in occasione del nuovo anno scolastico, era giusto partire con questo spunto Il miglioramento è possibile Un mondo social più inclusivo, sano e sicuro è realizzabile Perché no? Magari questo mondo virtuale, chissà, un giorno, renderà migliore anche quello reale Se ne dovessi avere bisogno, più semplicemente vuoi approfondire i temi visti oggi Ricorda che Generazioni Connesse è sempre a tua completa disposizione Visitate il sito generazioniconnesse.it E tu? Scambieresti il tuo smartphone con un dump phone? Grazie a tutti